Molto bene, potrebbe servire da contenitore per il neonalizzatore. Sembravo una preda facile. Scusa. Quell'arma! Scusa. Munizioni al massimo. Per Strauss quest'arma è una reliquia storica. Anche per gli standard dell'Ettere Oscuro. Aiuto. Settacorso. 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 Il neutralizzatore funziona ad Ethereum. E quella può contenerlo. Settacorso. Settacorso. La finestra si è chiusa. Combattete, Requiem. Ura! Settacorso. Ciascora. Settacorso. 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 Grazie a tutti. 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 Un momento. Non sono uno scienziato, ma persino io capisco che quel cristallo non va bene. Prima deve essere catalizzato. Non scherziamo. State sprecando tempo. L'etere oscuro consumerà il vostro mondo. Ne abbiamo due. Ancora un altro a cavallo. Per voi è già finita. Ancora. Perfetto. Abbiamo il dispositivo. Nuovi ordini dal direttore. Che state facendo? Che state facendo? Che state facendo? Colonnello, stanno arrivando. Idioti. Non sparate di là. Il gas poter... Meritavano. Meritavano di fare quella fine, però... cazzo. Muoviamoci. Muoviamoci. ~!! Perfetto. Autonomia al 50%, regalica necessità. Autonomia al 75%, autonomia al 50%, regalica necessità. 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 Neutralizzatore disattivo. Maxis, la squadra è alla piazza. Benissimo. Facciamo la fine. Benissimo. Siete arrivati fin qui. Cosa sapete male? Le cose finissere che possano danneggiarvi. Serve dell'essenza per caricarvi. Prima dovete distruggere i cristalli. Cosa sapete. Grazie a tutti! Potrete usarla per attaccarla! Quello che stai facendo è sbagliato! Bene! Torretta caricata! Quei cristalli lo proteggono! Distruggeteli per primi! Morite! Basta giocare, zombie! Perfetto! 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 Deludente! Perfetto! 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 Potete usare quella torre. Odio, che prepotente. In qualsiasi dimensione. Per colpo. Basta! Se siete così ansiosi di fermarmi, volete vedere come finisce la storia? Osservate il futuro che vi aspetta. Se avrete la meglio su di me. Devi... lasciarli stare! O forse è più semplice. Devo spostarmi. Carica G4, lanciata. E' pronta, sparta! Cala su di voi. Ammettetelo. Quest'arma ha qualcos... Grazie. Mi temi. Non mi fermerete, io ho spianciato presercivi. Accentato morte di volato divinità. Voi siete niente. Non solo... ...la dovremmo. ...la dovremmo. ...la dovremmo. Si espande. Grave nobba. Merda, segnalate zone focolaio in espansione ovunque. Non distruggerai questo mondo. Non finché ci sarò io. Samba, non so cosa vuoi fare, ma non farlo. Non sono... ...una cattiva persona, Waver. Io... ...ho un animo buono. So cosa devo fare. Mi dispiace. Questo è l'unico modo. No! Accendo la macchina mortale. Che cosa è fatto? è sparita nell'ettero scuro il rinnegato è stato fermato gli squarci dimensionali ora si stanno più dentro è finita è fatta grazie Sama grazie 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 a tutti